Noi ci occuperemo di sicurezza, di sicurezza stradale attraverso la collaborazione con la Polizia Municipale, dopodiché ci occuperemo anche della riqualifica di alcuni punti più disagiati di questa città, fra i quali il Colle del Pionta che sta particolarmente a cuore a noi di Giovento Aretina. In più ci occuperemo di comunicazione e informazione, cercheremo di dar voce attraverso e social e appunto attraverso noi consiglieri di questa Giunta dei Giovani, a tutti gli studenti, a tutti i ragazzi che hanno voglia di dire e di fare per questa città. Enra Talanti, il neoeletto sindaco degli studenti, dopo le elezioni che si sono tenute ad inizio maggio mercoledì mattina all'insediamento del primo cittadino e del Consiglio Comunale, composto ovviamente da giovani studenti. Ringrazio i tre istituti, lo scientifico Litis e l'Isis Bonaroti Fossombroni perché hanno creduto a questo progetto e ho potuto anche toccare con mano come i ragazzi, nel passare del tempo, sono motivati da sé, hanno dato forza e spirito a questa iniziativa e allo stesso modo hanno dato vita anche alla presentazione di programmi nei quali vi erano punti anche tangibili. Il mio obiettivo è quello di fare in modo che la loro voce possa essere portata all'attenzione nostra. Faremo delle vere e proprie sedute, i ragazzi, i stessi studenti si renderanno conto di quali sono i compiti e i doveri del Consigliere Comunale, cosa possono fare, cosa possono richiedere e allo stesso modo faremo anche dei confronti ulteriori come faremo questa mattina con la giunta stessa di oggi in carico, lo stesso Alessandro Ginelli, sindaco di Arezzo. Un giovane sindaco per un altrettanto giovane giunta, composta da tre assessori. Abbiamo Lorenzo Franchi che è il mio vice sindaco e che avrà le deleghe alla manutenzione, alle opere pubbliche, all'urbanistica. Poi abbiamo invece Ginevra Livi, Ginevra Livi che si occuperà di politiche sociali, politiche giovanili, pari opportunità e politiche sanitarie. E infine abbiamo, non meno importanti degli altri, Rebecca Tuberti che si occuperà di sport, turismo e grandi eventi e ambiente.